Il sindaco di Milano Giuseppe Sala nella sua veste di primo cittadino della città metropolitana ha deciso chi sarà il suo braccio destro. A sostituire Arianna Censi nel ruolo di vice sindaca metropolitana sarà Michela Palestra, sindaca di Arese. Lo stesso sindaco aveva sottolineato di volere al suo fianco un braccio destro donna e non milanese per cercare di allargare e considerare il peso di tutti e 184 i comuni dell'area metropolitana. Ingegnere meccanico classe 1973, Palestra mantiene le delega all'ambiente e la presidenza del Parco Agricolo Sud, alle quali si aggiunge da oggi anche la delega alla pianificazione territoriale. Quello che abbiamo davanti è una sfida che parte dal essere come città metropolitana capaci di essere al fianco dei territori dei comuni per progetti che invertano o facciano buona pratica, buon esempio per i territori. Quindi ovviamente al centro dell'attenzione in questo momento, come ormai da tempo, sono i temi della sostenibilità con un diverso modo di progettare e di incidere. Le scuole avremo grandi risorse da far cadere a terra per migliorare anche la qualità e i luoghi di studio dei nostri ragazzi e un lavoro centrale anche sulle infrastrutture, intese però in una chiave che deve tener conto di come questa pandemia ha anche cambiato l'approccio alle infrastrutture. Quindi non solo grandi strutture ma tanta attenzione alle connessioni dell'esistente, alla riqualificazione dell'esistente. La sfida della città metropolitana, che è un ente giovane, un ente che è un po' figlio di una riforma non completa e quindi nato un po' affaticato, in realtà sarà lo sdono nevralgico anche di fondi eccezionali come il PNRR e in questo serve essere chiari, determinati nel riuscire a far cadere questi finanziamenti. Il primo cittadino inoltre indetto elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano per il prossimo 19 dicembre, data in cui i sindaci e consiglieri dei 184 comuni metropolitani sceglieranno i nuovi 24 membri dell'Aula di Palazzo Isimbardi.